Come giudica invece il commissariamento che il Foggia Calcio ha avuto in questi giorni? Ma guardi, io devo dire la verità, se entro nel dettaglio di quello che sono autorità terze, cioè che non dipendono dalle autorità sportive, creerei un imbarazzo istituzionale enorme. Poi in particolare sono commissario della Lega di A. Già ho le mie cose da sistemare con queste società, mi auguro che tutto si risolva. Sono contento che la squadra domenica, mi sembra che ha dimostrato che non solo ha reagito, ma ha fatto una grande prestazione a Cremona, 4-0. Per cui qui c'è molta fame di calcio, c'è una bella storia anche del passato, tanti giocatori importanti, è indispensabile che si vada avanti in un modo ovviamente corretto, pulito, sportivo. Grazie. Foggia Calcio, secondo te come finirà questa storia? Come finisce non te lo so dire e vorrei che finisse nel migliore dei modi. So che dovremo fare una lunga attraversata del deserto, so anche che dovremo superare degli scogli incredibili. L'augurio che faccio io è questo, che nel frattempo la squadra raggiunga e ottenga il maggior numero possibile di punti. Poi dopo vedremo qual è la consistenza delle accuse e l'efficacia della difesa, che spero sia particolarmente, uso un francesismo, cazzuta. Nei salotti tv nazionali, sportivi che tu frequenti, che tipo di immagine c'è del Foggia Calcio, anche dei tifosi, della squadra, della società? Guarda, devo dirti francamente, io che seguo da tifoso nelle trasferte Arnold alla squadra, devo dire che abbiamo raccolto una striscia di complimenti, di considerazioni, di giudizi largamente positivi. Ti cito Parma, dove pure non abbiamo vinto, anzi abbiamo perso, aperte e chiuse parentesi fossimo rimasti in undici, l'avremmo vinta sicuramente quella partita. Ti dico, la curva ha cantato e ballato tutta la partita, anche sul 3-1, raccogliendo, devo dire, il giudizio positivo di tutto il resto del pubblico di Parma. Beh, questo è anche un po' un consiglio ai tifosi foggiani, cioè di non perdere l'entusiasmo. Non solo non perdere l'entusiasmo, di continuare a comportarsi così, perché numericamente, come comportamento, hanno stravinto il campionato.